Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di calendari dell'avvento. Qui su YouTube ci sono già stati un sacco di video di spacchettamenti di calendari dell'avvento. Ancora prima dell'arrivo di Halloween io ho visto veramente un sacco di video che riguardano questi calendari. E sinceramente sono rimasta un po' stupita perché mi sembra un po' presto. Però evidentemente se ne stanno parlando tutti così tanto in anticipo è perché questi calendari vanno molto spesso e molto in fretta sold out. Ossia non li trovate più. E quindi ho pensato anch'io di anticipare un pochino questo video che di solito faccio a novembre. Lo farò ad ottobre quest'anno in via del tutto eccezionale seguendo un po' la linea del commercio. Per farvi una piccola carrellata di quelli che sono i calendari dell'avvento che potete trovare. Sia di beauty sia di makeup ma non solo perché ho inserito anche i calendari che hanno delle cose alimentari e delle candele profumate. Quindi direi di non perderci troppo in lunghe introduzioni e di passare subito ai calendari. Questo è il calendario Tilbury Glittering Galaxy. È un calendario che ci regala dei cassettini glitterati color oro con prodotti in mini size che vanno dal beauty al makeup tra cui anche il rossetto pillow talk che è molto famoso e richiesto. È un calendario che luccica, è sicuramente elegante ed è anche molto bello da conservare come portagioie. Poi abbiamo il calendario di NYX che è ispirato alle discoteche degli anni 70 con molti prodotti full size, 24 finestre ricche di prodotti makeup. Poi abbiamo il calendario di MAC a forma di stella nera con decorazioni dorate con mini rossetti e lip gloss, prodotti skin care, ombretti e mascara. Il calendario Sephora è dedicato alla neve, al ghiaccio, decorato con pinguini. Troveremo 24 sorprese makeup e skin care con matite, mini rossetti, maschere viso e prodotti corpo. Sephora quest'anno ha fatto anche un altro calendario che è il Favorites che è fatto di 24 finestre lussuose con prodotti dei brand più amati. Quest'anno c'è anche il calendario di Harry Potter che è decorato con il magnifico castello e contenente bombe da bagno che sono ispirate al boccino d'oro, maschere occhi, smalti ispirati alle quattro case e pennelli trucco che sembrano delle bacchette magiche. Il calendario di Essence è meraviglioso perché ha un design ispirato alla ruota panoramica con deliziose scatoline che riportano una frase. Colori pastello e contenente prodotti makeup, alcuni in edizione limitata e full size. Quest'anno Essence ha fatto anche un altro calendario, tutto glitterato con 24 finestrelle scintillanti, con rossetti liquidi, palette viso, smalti, stickers per unghie e tatuaggi temporanei da applicare sul corpo. Abbiamo poi il calendario Lancome che è rosa, oro, glitter con scatoline a forma di casetta contenenti dei prodotti in mini size tra i più richiesti per il periodo natalizio. Il calendario Asos che abbiamo già visto nel video di Fiore Corso che vi lascio giù in info box così potete vedere tutto quello che c'è all'interno. È un bellissimo calendario perché è una scatola in sughero con delle scatoline ricco di prodotti beauty e makeup di brand cult. Poi abbiamo il calendario Nivea che è blu notte con fiocchi di neve, renne, slitte e 24 prodotti mini size per la skin care, maschere viso, creme, burro cacao e salviette struccanti. Il calendario Look Fantastic è un cofanetto blu e oro con 25 cassetti che hanno favolosi prodotti makeup e beauty con brand top. Il calendario Clinique è tutto rosa con punti luce che ricordano le luci dell'albero di Natale con 24 prodotti tra makeup e beauty. Il calendario di Catrice con lo sfondo blu e viola con stelle dorate ricco di prodotti makeup da rossetti, paletti, illuminanti, accessori e smalti. Il calendario Makeup Revolution ci regala un rosso acceso con delle sfere dorate con prodotti makeup per occhi, viso e labbra e troveremo anche 4 pennelli. Il calendario Maybelline New York ricorda la grande mela con i suoi alti grattacieli, il rosso fa contrasto con il nero del cielo stellato e troveremo 24 caselline con i prodotti makeup best seller del brand in formato full size. Douglas invece ci regala tre calendari, due per donna con prodotti viso, corpo e makeup e uno per uomo che include prodotti per la barba e per i capelli. Poi avremo un calendario Yankee Candle che è formato libro, ha un decoro alpino e natalizio, 24 finestrelle con candele natalizie e un portacandele traforato. E poi avremo la classica Ghirlanda di Natale per ogni giorno dell'avvento con piccole candele che possono essere utili anche come segnaposto e poi una candela più grande a giara. Abbiamo poi il calendario Valiosa Blu che è composto da gioielli che sono componibili, quindi c'è un braccialetto e una collana allungabili per andare a creare una combinazione personalizzata con le 22 perline da inserire e combinare come meglio si preferisce. C'è poi una versione multicolore con charm in vetro che ricordano l'arcobaleno. Vi propongo poi un calendario di cartoleria che propone adesivi, penne, blocchi notes, agendine per amanti di cartoleria. Poi c'è un altro calendario di Marta Brooke che propone un tacquino, una penna, righello, graffette, tutte personalizzabili al momento dell'ordine. E infine abbiamo il calendario Degustabox pieno di prodotti alimentari. Se non sapete cos'è la Degustabox dovete assolutamente seguire i miei video in cui faccio l'unboxing della Degustabox, quindi tiro fuori tutti i prodotti alimentari che mi arrivano in questa scatola meravigliosa. Io ho già ordinato il calendario dell'avvento, poi quando mi arriverà sicuramente farò il video, però adesso andiamo avanti con gli altri calendari. Questo è uno splendido calendario dedicato al tè. Ci sono 24 bustine di tè sfuse con delle miscele particolari e poi se andate a vedere il sito ne trovate molti altri. Questo è il calendario di Pompadour che contiene 24 infusi selezionati a base di frutta, erbe e spezie. È un calendario dell'avvento un po' speciale perché è stato realizzato con i disegni dei bambini che vengono sostenuti dall'organizzazione SOS Villaggi dei Bambini che si impegna a sostenere anche economicamente tutti coloro che non hanno la presenza della famiglia per crescere. E acquistando questo calendario potrete sostenere il progetto Libero di Esprimermi di SOS Villaggi dei Bambini che prevede l'organizzazione di laboratori di arte e terapia, musica e teatro per i bambini e ragazzi accolti in questi villaggi. Questa era una veloce carrellata di alcuni dei calendari dell'avvento che sono disponibili quest'anno, ce ne sono tantissimi quindi era impossibile farveli vedere tutti, però ho selezionato quelli che mi sembravano più carini, più particolari e ho anche voluto inserire appunto quello di cartoleria, quello con le bustine di tè, quello della degustabox perché non tutti comunque sono appassionati di makeup e di beauty ma magari vogliono un calendario dell'avvento un po' diverso che dia dei prodotti magari da poter anche condividere con la famiglia perché quelli alimentari o comunque quelli con le bustine di tè sono sicuramente molto più condivisibili rispetto agli altri tipi di calendario. Fatemi sapere nei commenti se voi avete preso qualche calendario dell'avvento ed eventualmente quale. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.